Un saluto a tutti i campanali di Youtube, mi trovo a Oleggio alla chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo dove oggi si festeggia la festa di Santa Maria delle Mercede e quindi alle 11 essendoci la messa solenne suoneranno le campane a concerto solenne, il parroco mi ha autorizzato a suonare le campane quindi suonerò a concerto solenne Ci sono 6 campane, sono Barigozzi Ultraleggere e aspettiamo la suonata Una buona domenica da Campanaro 29 Un saluto a tutti Un saluto a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.